Ecco quanto è importante, carissimi amici, in questo episodio vedere come Gesù si pone nella nostra vita, come il medico, come il guaritore, che non significa che viene per compiere un segno fine a se stesso, ma significa che Gesù viene nella nostra vita affinché noi ci leghiamo a Lui, affinché noi mettiamo da parte i nostri mali, i nostri malessere, le nostre malattie, i nostri scoraggiamenti, la nostra mentalità negativa. Gesù viene e ci chiede, vuoi guarire? Vuoi liberarti da questo male? Quindi siamo interpellati da Dio innanzitutto se vogliamo guarire e gli diciamo certo Signore che voglio guarire. Allora dice alzati, seguimi e alza la tua barella testimonia che io posso compiere prodigie nella tua vita. Alzati, il Signore ti guarisce.